Tu mi dai troppo spesso le spalle, a quanto pare ti fidi troppo di me, o forse troppo di te stesso. La conosci la storia dell'uccellino? Mio nonno me la raccontava sempre. Diventare nonni era estremamente difficile ai tempi miei. Era difficile ragazzo, ma non impossibile. Allora quest'uccellino non sapeva ancora volare. Durante l'inverno, in una notte fredda, ruzzola giù dal nido e finisce sul sentiero. Poverino, comincia a gridare, piu, 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 come un matto e sta per morire di freddo. Ma fortuna per lui, ecco che arriva una vacca. Lo vede e pensa di scaldarlo. E così, alza la coda. Sì, splash! Una margherita bella e fumante, grossa così. L'uccellino al caldo è tutto contento, tira fuori il capino e ricomincia. Pi, piu, 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 più forte di prima. Ma un vecchio coiote lo sente e arriva di corsa. Mamma mia! Allunga una zampa. E lo tira fuori dalla cacca. Lo pulisce ben benino. E poi? Se lo ingoia in un solo boccone. Il nonno diceva che la morale c'è. Ma che bisogna trovarsela da soli. Ah, 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 ah.